Insistere su questo, perché appunto pensiamo il tema dell'agra alimentare come centrale per il futuro. Mi auguro buona domanda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tra di noi, a cui mi appresto ad arrivare il Presidente Sikierski, il Presidente Russo, è assente invece la signora di Mottini di Salute, ma il suo intervento sarà distribuito passando per la presenza al Ministro Maurizio Martini. Grazie, un caro saluto a tutti. Un ringraziamento che ha nazionato le presidenze nelle nostre due commissioni di cultura. È un caro saluto molto utile per riflettere insieme la piccola rottea. Penso che gli elementi che sono stati sottolineati dalle due introduzioni, dei due presidenze, possiamo entrare nel merito. Ma penso che devi tenere sempre aperto una riflessione su come si aggiorna meglio alcuni interventi. La programmazione fa sul versante della sfida, della sostenibilità, legato appunto alla dimensione dei territori e i fattori ambientali sia un grande passo. che possiamo programmare con il PSR.